il futuro quando mi chiedono come funziona il futuro cos'è il futuro parla del futuro io in realtà non ho capito bene come funziona il futuro cioè se non so dove arriva quando arriva come funziona se arriva all'improvviso qui ho cercato una definizione di futuro il futuro sostanzialmente è il tempo dopo il presente facile in realtà quando avevo 20 anni il futuro non esisteva perché a 20 anni era talmente lontano e c'era mio nonno urlando che mi diceva oh man te preoccupa che il tempo vola io guardavo boom eccomi qua 49 anni 20 anni passati così 30 quasi bruciati sono qua davanti a voi così un secondo questi quasi 30 anni lo dico così mi preparo ai 50 anni sono successe veramente un sacco di robe e la domanda era sempre la stessa in questi 30 anni quale sarà la cosa che io non capirò perché adesso per esempio visti tutti i trascorsi tutto il casino che è successo in questi anni arriveranno gli alieni probabilmente no oppure ci sarà il teletrasporto allora magari io capirò il teletrasporto la tecnologia ma di sicuro non mi farò incenerire e ricomporre da un'altra parte prenderò l'aereo probabilmente no però comunque queste cose le capirò invece di tanti anni fa ho comprato un cellulare a mio nonno glielo ho messo in mano e gli ho detto guarda nonno adesso ti faccio vedere come possiamo chattare se tu scrivi questi messaggini quindi lui ci mette 10 minuti scrive messaggini lui aveva un sacco di anni scrive messaggini invio e due secondi dopo sul mio cellulare appare lo stesso messaggino quindi io super orgoglioso mi giro verso mia nonna e gli dico guarda un po' lui mi fa effettivamente funziona e perché non ti posso telefonare ho il telefono in mano effettivamente non ho avuto il coraggio di rispondergli però lui in realtà non aveva capito internet perché quello lì era internet lui no non guardava dalla parte giusta non l'aveva non l'aveva colto oggi quanti di voi telefonano e quanti di voi mandano messaggi diciamo che impari la cosa no per in questi anni sono successe veramente tantissime cose tra cui per esempio la pandemia so se vi siete accorti che nel 2020 si è stata la pandemia no e chi è che di voi ha fatto una riunione col proprio capo il proprio team e magari non era fisicamente presente l'ha fatta con zoom o con qualsiasi software di videoconferenza state la mano figata e non eravate nella sala eravate magari chi di questi era a fare la spesa non lo dito oppure con la giacca senza pantaloni sotto robergenza davano gli altri stanno mentendo e chi di voi è stato licenziato per questa cosa nessuno perché in realtà se voi aveste fatto questa stessa cosa nel 2019 solo un anno prima probabilmente licenziavano perché se voi vi presentavate dal capo dicendo guarda scusa sto facendo la spesa non posso mi collego però è licenziato vai in ufficio in giacca e cravatta e mutande licenziato nel 2020 invece normale quindi siamo passati in un anno online direttamente subito oggi è normale fare videoconferenze videocall anzi spesso si fanno e spesso magari qualcuno non abita più in centro ma abita da qualche altra parte che si connette il remoto no l'altra cosa che è successa è che tutti parlano di questo e com'è che si entra nel metaverso c'è un app sito chi è che nel metaverso di voi fatto chissà cos'è il metaverso hanno rete qui per favore ora provo a farvi un altro esempio questo ero io tondo esattamente così a 13 anni quindi il mio la mia vita era quella lì e tutti i miei amici erano erano oggi 10 chilometri io prendevo la mia bicicletta andava al bar andavo nella piazzetta andava qualche parte incontravo i miei amici alle due e mezzo di pomeriggio parlavamo delle morosette delle avventure del dei compiti da copiare del giorno dopo che si arrivava sempre sulle cose insomma sarà capitato a tutti quanti voi no io adesso però incredibilmente questi 30 anni ha fatto anche due figli chi è che di voi ha dei figli o che almeno sa di avere dei figli ok il raggio di amici dei vostri figli non è più questo il raggio di amici degli amici dei vostri figli è questo perché probabilmente loro adesso proprio in questo momento stanno chattando con qualcuno che non è nel raggio di 10 chilometri loro probabilmente stanno parlando con qualcuno che è ben al di là dei 10 chilometri e un'altra cosa ennesima che è successa in questi anni sono l'avvento di un sacco di giochi tipo roblox fortnite minecraft chi è genitore sa benissimo le madonne che ha preso guardando minecraft tutti i ragazzini appicciccati al monitor stanno lì no per favore non ci stare le ore vero se tu hai avuto coraggio grazie solo i miei e i suoi vostri in realtà se li guardate bene però loro indossano le cuffie e non solo stanno giocando ma stanno parlando con gli altri amici che loro sono non so se conoscete minecraft c'è questa tempesta che si chiude e devi star dentro e uccidere tutti e l'ultimo che rimane vince no in realtà loro che stanno facendo lì dentro è parlare con i loro amici chattare chiacchierare fare passarsi i compiti il tema è che noi che non concepiamo perché non esci perché non vai con loro perché stai attaccato a queste cuffie ora per darvi un'idea dei numeri di fortnite per esempio uno dei giochi ma gli altri sono più o meno uguali nei primi due anni hanno fatto 160 milioni di utenti 20 utenti 20 milioni di utenti collegati contemporaneamente a giocare e un fatturato di 9 miliardi di dollari che per un gioco gratuito secondo me è una bufala il tema però è che per esempio questo maglione che io sto indossando adesso che non dovrei farlo perché sono alte dicks e la mia coach mi ucciderà ma ho anche un buco sotto il maglione questo maglione costa 10 euro più o meno no? se io prendessi lo stesso maglione magari con una firma qui sopra potrebbe costare molto più di 10 euro ok? il tema è che se io tornassi indietro di 400 anni e ponessi di fronte a un contadino e dicessi guarda questo maglione costa 10 euro quest'altro uguale identico proprio preciso spaccato ha solo un'etichetta rossa qui sopra gialla con un nomino costa 600 euro il contadino mi guarda probabilmente mi direbbe sei un deficiente è ovvio che devi comprare quello a 10 euro non puoi comprare quello da cena che cosa stai facendo? invece tutti quanti noi abbiamo comprato un vestito da 1000 euro un orologio a 2000 euro perché noi siamo molto fisici noi abbiamo bisogno noi giudichiamo in base a questa cosa infatti questo cosa c'ha di strano per esempio? cos'è che notate di questo dottore? che non ha i capelli non è una cosa... niente infatti questo dottore è normalissimo e tutti noi ci faremmo visitare a questo dottore se non fosse che quando lo incontriamo nel weekend in realtà voi avete riso ma lui è sempre la stessa persona magari ha vinto il premio nobel è bravissimo e tutto quanto perché noi la nostra generazione è fisica è abituata a giudicare in base a quello che vedete se io fossi salito in giacca e cravatta o vestito con un buco sul maglione voi avete un giudizio di me piuttosto che un altro se io quando vengo a cena con voi e verrò a cena con voi con tutti quanti appoggio sul tavolo l'iPhone di ultimissima generazione o il Nokia del 1990 voi immediatamente mi giudicate in un modo piuttosto che un altro perché la nostra generazione è fisica la loro generazione quella successiva non è fisica perché loro stanno facendo esattamente le stesse cose che facciamo noi loro si trovano in piazza a chiedere i compiti copiati ma la nostra piazza era nel raggio 10 km la loro piazza invece è online, è su Fortnite, è su Minecraft e da qualche altra parte se voi mi trovate non affascinante il discorso che sto facendo voi siete fisici e siete obbligati a stare lì e ascoltarmi magari fate la battuta con quello che avete a fianco a voi se lo fate con le nuove generazioni non sono obbligate ad ascoltarmi loro prendono il telefono e chattano con una persona che ritengono più interessante di quella che stanno guardando davanti a noi che può essere in quel momento dall'altra parte del mondo per cui loro hanno bypassato la cosa del oddio dobbiamo essere fisici, dobbiamo stare qua davanti per noi invece questa cosa è molto molto fisica infatti il futuro come ce ne immaginiamo noi è quello fatto con gli occhiali tipo questi che tu indossi gli occhiali come Manority Report tipo questi e ti vedi tutte le cosine davanti segui le cose tipo nei film questi occhiali in realtà hanno già le cuffie attive per cui se io parlo nel microfono posso rispondere al telefono posso fare così e adesso sto condividendo su Instagram e su Facebook tutta questa cosa fighissima, tutto quanto, bellissimo ecco, chi è che di voi comprerebbe questa cosa per mandare i vostri video su Instagram? effetto io? bene ah no, non era io pensavo che alzaste tutti la mano in realtà a Google hanno fatto un esperimento visto che questi occhiali hanno un microfono e hanno delle stecche che fanno sentire l'audio tu mi parli in cinese e gli occhiali mi rispondono in italiano quindi mentre tu mi parli io ascolto in italiano quello che tu mi stai dicendo in cinese chi è che li comprerebbe adesso? quelli che hanno alzato le mani o solo di Google o hanno mentito ok in realtà siamo passati da un minuto all'altro a una cosa completamente inutile se è un deficiente e hai speso i soldi a tutti mi chiederanno dopo dov'è che si comprano esattamente perché quella cosa di Google com'è che hai fatto? perché in realtà quello che succede che mio nonno mi ha detto oltre a questa cosa qua era tipo amante devi preoccupare del futuro perché tanto non c'è poi fa niente lui era di Roma no? fai quello che ti piace fa e poi dopo vedrai che cose funzionano che era più o meno la stessa cosa che ha detto Steve Jobs un botto di anni dopo a Stanford in inglese molto più fico no? per cui la brutta notizia è che noi siamo quel contadino di 400 anni fa se noi non capiamo certe cose che non vediamo eccetera eccetera la bella notizia è che stiamo cercando il futuro dalla parte sbagliata perché il futuro non è davanti a noi basta girarci guardare il casino di puntini che abbiamo combinato nella nostra vita scegliere i migliori e unirli ed è in quel momento esatto che arriva il futuro per cui il futuro non arriva all'improvviso basta unire i puntini che avete già seminato grazie grazie Grazie.